Roma, via della Lungara, al tribunale militare ultima giornata del processo Kappler, il massacratore di 335 italiani alle fosse erdeatine, 140 ore di dibattito, 34 udienze, sono le 23 e 30, ecco gli imputati, ecco lui, Kappler, da 6 ore la corte è chiusa in camera di consiglio, il generale Fantoni legge la sentenza, e lo condanna alla pena dell'ergattolo per il primo reato, e danno i 15 di reclusione per il secondo reato, inoltre all'isolamento di urno per anni 4 e da tutte le conseguenze di legge. Sia pace ai nostri morti, essi non udirono come il carnefice che li uccise una giusta motivata sentenza, caddero per un mondo migliore che li benedice, e sulle belve scenda ormai il silenzio.